Nasce a Roma il 4 ottobre del 1984. Diplomato presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Francesco Montanari partecipa al saggio di diploma dell'allievo regista Jacopo Bezzi. I bambini di sale, ed è successivamente diventato famoso per la sua partecipazione. Nel ruolo del libanese, in romanzo criminale la serie, serie tv ispirata alla vera storia della banda della Magliana. Nel 2009 e nel film Oggi Sposi, regia di Luca Lucini, ha inoltre partecipato, al fianco di Benedicta Boccoli e Sebastiano Somma, allo spettacolo teatrale Suncin, per la regia di Giorgio Albertazzi e, insieme a Riccardo De Filippis, ha il calapranzi di Harold Pinter, per la regia di Giorgio Caputo. Nel 2010 è protagonista dello spettacolo Killer Joe, di Trasilez, con la regia di Massimiliano Farau, al fianco di Alessandro Marverti, Chiara Claudi, Andrea Ricciardi e Patrizia Ciabatta, interpreta il sicario Killer Joe. Nello stesso anno recita da protagonista anche in Piccoli Equivoci, per la regia di Claudio Bigagli, insieme a Mauro Meconi e Diane Fleri, ancora protagonista, assieme a Vanessa Esler, del film, Sotto il vestito niente l'ultima sfilata di Carlo Vanzina. Nel 2012 interpreta la parte di un senza tetto nel videoclip di Luciano Ligabue Mabituero, diretto e prodotto da Marco Salom. Nel 2013 compare in squadra antimafia interpretando Achille Ferro. Spietato mafioso catanese, Valerio Binasco lo sceglie per interpretare Romeo e Romeo e Guglietta prendendo il testimone di Riccardo Scamarcio. Sempre nel 2013 interpreta nel film, come non detto, Giacomo, Lola, straordinaria drag queen per la regia di Ivan Silvestri. Nì Massimo Bonetti lo sceglie per la sua opera prima, la settima onda. Come protagonista a fianco di Valeria Solarino ed Alessandro Haber. In uscita prossimamente nel 2014 è in scena con parole incatenate insieme a Claudia Pandolfi per la regia di Luciano Melchion. Nel 2015 interpreta Giovanni, figlio di genitori ignoti, nello spettacolo teatrale Il più bel secolo della mia vita. Recitando al fianco di Giorgio Colangeli, sempre nel 2015 è stato ospite alla Festa del Fatto Quotidiano. Per interpretare Massimo Carminati nelle intercettazioni di Mafia Capitale. In preparazione il testo inedito di Fortunato Cerlino presentato al Festival del Teatro di Napoli a fine giugno 2015. Nel 2016 conduce assieme ad Alessandro Bardani una trasmissione radiofonica di nome Radio Commedi. Su Radio 2.